La mia mia vincita è stata fatta giovedì con il concorso 35, un sistema che facciamo noi già da almeno 4 anni e praticamente hanno vinto 23 persone, sono i nostri clienti da molto tempo che parteciano a questo sistema e infatti stamattina sono numerosi, volevano capire, col totale di 109 mila euro praticamente e si aggiudicano più o meno 4.700 euro a testa, speriamo che sia un inizio di una lunga serie di vincite Grazie